Ecco allora questo primo premio per l'assenzione della civiltà latina va alla studentessa del liceo classico Colletta di Avellino, Anna Saccardo. Dalla filosofia al latino il 2022 è già l'anno dei record per il mondo della scuola in provincia di Avellino, primo posto anche alle olimpiade di lingue e civiltà classiche, davvero un emozionante segnale di speranza per un territorio che attraversa un'allarmante fase di degrado culturale, sociale ed economico. La civiltà classica ci permette di leggere e analizzare il presente da un altro punto di vista. Il tema del mio saggio era il tempo sulla base di riflessioni di autori come Seneta, Orazio di Prezio e Sant'Agostino. Questa è stata un'esperienza che mi ha permesso di valorizzare il rapporto sempre rostante tra antico e presente. È stata la conclusione di un lungo percorso preso possibile dal sostegno della mia professoressa di latino e diretto, la professoressa Antonella Matarazzo, dalla preside del liceo classico Pietro Colletta, Anna Maria Labruna e dalla mia famiglia.